Loro si sono chiusi dentro, non la provano a nessuno, ma lo potevano fare anche prima, secondo me. Dai barra agli esercizi commerciali, Pienza fa colazione con le monache del monastero Maria Tempio e dello Spirito Santo, dove i curiosi continuano ad affacciarsi, accompagnamento quasi obbligatorio di un sabato mattina. Speravamo che eventualmente riuscissero a introdursi nella comunità Pientina, dando anche un segno, anche dal punto di vista della religione, dell'insegnamento. Quindi riuscire un attimino anche a parlare con i ragazzi, cosa che questo non l'hanno mai fatto. D'altronde, da una settimana, questo angolo di Val d'Orcia va di pari passo con il caso che ha posto le religiose, prima nel mirino del Vaticano e poi della diocesi, che ieri ha diffidato la madre superiore, la badessa Diletta Forti, che avrebbe dovuto già lasciare il convento il 13 febbraio, su disposizione della Santa Sede. Giustamente quando uno fa una vocazione, la famosa chiamata dall'alto, secondo me uno dovrebbe stare a tenersi a quello che dice la vocazione, giusto? Qui secondo me, a come è andata e come si vocifera, sono andati un pochino fuori da le righe. Di bocca in bocca così ritornano le tante storie che hanno circondato negli anni questo gruppo di 13 benedettine in paese dal 2017. Forse il mercatino è stato un modo per cercare di andare avanti, però non è stato corretto perché se comunque erano suori di clausura o tra virgolette comunque simili, devo dire che non potevano nemmeno fare quello che hanno fatto. Si sono forse, sono andati un po' troppo avanti con un passo, col passo loro che forse è stato sbagliato insomma.